Mohamed Amin, un giovane residente a Porto, ha tristemente perso la vita dopo essere stato trasportato d'urgenza a Borgo Trento. Ieri si è svolto l'ultimo commiato con una cerimonia islamica. Una profonda tristezza ha pervaso le scuole medie, cavalcaselle e l'intero quartiere di Porto di Legnago a causa dell'improvvisa scomparsa di questo studente di soli 14 anni. Nato da genitori marocchini e cresciuto in Italia, Mohamed Amin, nonostante le sfide legate alla sua salute fin dalla nascita, si era integrato in modo esemplare nella comunità ed era apprezzato dai compagni di classe insegnanti e personale scolastico. Il giovane 14enne che aveva quattro fratelli è deceduto poco dopo le 23 del primo febbraio scorso presso l'ospedale di Borgo Trento. Era stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso di Verona, emergenza a seguito di un improvviso malore. Un amico della famiglia ha raccontato che Mohamed si era sentito male a casa, ha avuto una crisi respiratoria seguita poi a un arresto cardiaco e nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.